Vivevo un periodo particolare nella mia precedente occupazione lavorativa perché c'era un profondo senso di insoddisfazione, di frustrazione. Mi è arrivata la chiamata di Banca Mediolanum, anche se l'ho accolta, sono sincero, con un po' di scetticismo perché non è mai stata la mia aspirazione lavorare come consulente finanziario. Sono nati in me tantissimi interrogativi, tante paure, dettate dal fatto che avessi comunque un posto fisso, un grado di capo ufficio. Mi sono detto ma cosa vado a fare? Mi prendo un rischio non solo per me ma anche per, soprattutto per la mia famiglia. Per tante notti non ho dormito e avevo tanta paura di non riuscire a portare poi a termine un obiettivo che mi sarei dato assieme alla banca. Ho capito che oltre alle prospettive economiche importanti che c'erano, c'era una concreta possibilità meritocratica di fare carriera. Ho detto il treno sta passando adesso, se non faccio questa scelta in questo momento è probabile che sarò infelice per tutta la vita. Nella presentazione del modello di Banca Mediolanum sono stato attratto molto dalla chiarezza e linearità dei progetti di crescita e di sviluppo della banca. Mi ha affascinato tantissimo la possibilità di poter gestire in maniera esclusiva nel tempo i clienti sotto tutti i punti di vista. Ricordo che ho fatto diversi colloqui, ho conosciuto tantissime persone diverse, sentivo che non sarei rimasto solo in questa difficile e importante scelta di vita. Ho scoperto una banca semplicemente strutturata da un punto di vista organizzativo, molto vicina al lavoro del family banker e soprattutto laddove non arrivavo avevo se non la presenza del supervisore da subito la presenza di specialisti di prodotto che mi hanno aiutato a conoscere in pochissimo tempo anche l'operatività di una banca che per me era totalmente nuova. La banca mi ha supportato dopo tre mesi dall'inserimento a organizzare un evento dedicato alla mia presentazione come consulente sul territorio e oggi posso dire che circa il 70% del portafoglio che ho creato è costituito da clientela che non conoscevo. L'obiettivo che assieme alla banca abbiamo deciso di darci l'ho raggiunto in meno di un anno. Posso contare un risultato di quasi il triplo di quello che avevo preventivato. In questo lavoro è importante essere premiati per i risultati prodotti. Da quando sono in banca Mediolanum per tutto lo sforzo che sto mettendo in questa attività e l'impegno quotidiano mi sento premiato al 100%. Grazie a tutti.